... Può essere carne congelata, una palla di ghiaccio con pezzi di carne dentro o un po' di sangue o per altri animali come le orze pesce congelato dentro una palla di ghiaccio o frutta congelata a diversi primati che lo odorano a passare tempo mano a mano, leccare, mangiare eccetera e questo dà loro un impegno che è una cosa che è molto importante l'arricamento ambientale per il benessere degli animali Purtroppo non è la prima volta, non è il primo anno che abbiamo questo caldo non abbiamo qua animali a rischio o se sono quelli a rischio hanno quello che hanno bisogno per sopravvivere vuol dire o un climatizzatore, un'area proprio condizionata che possano rimanere dentro laddove la temperatura è controllata e non può superare o quello che hanno bisogno per raffreddarsi vuol dire una vasca di acqua abbastanza ombra perciò rischio vero oggi non abbiamo no? 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 no?